Con le immagini di mamma orso e del suo cucciolo a spasso per le vie del centro cittadino di Pescasseroli nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Una breve corsa tra passanti incuriositi e il video è subito diventato virale. L'orsa, correndo per le vie di Pescasseroli, forse in cerca di cibo, ha attraversato una strada del paese seguita dal suo cucciolo prima di dileguarsi nella notte. Il Comune di Pescasseroli fa parte del PNALM, il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dove l'orso dimora abitualmente.